Benvenuti alla presentazione del nuovo drone MG1 DJI. Il drone è appositamente progettato per l'agricoltura. Grazie ad un forte sistema di alimentazione ad 8 assi il carico standard è di 10 kg. Può lavorare fino a 50 a 3 ore, fino a 40 volte più efficiente dei sistemi tradizionali. Progettato con un innovativo sistema di raffreddamento, gli permettono l'esposizione prolungata a polveri e liquidi. Utilizza un sistema di pompa a pressione ed è possibile sostituire gli ugelli per regolare portata e atomizzazione. Gli ugelli sono posizionati sotto i motori e grazie all'effetto di turbolenza generato dai rotori consentono alla gente di raggiungere le radici e la parte posteriore di piante esteri. Possibilità di volo manuale o automatico per eseguire un'irrigazione semplice, intuitiva ed efficiente. MG1 è dotato di un radar più precisione ad onda continua e frequenza modulata che gli permette precisione al centimetro, scansione in tempo reale del terreno, getto uniforme sulle culture, volo sicuro. MG1 DJI, una nuova era per l'impiego di prodotti fitosanitari in agricoltura. MG1 DJI, una nuova era per l'impiego di prodotti. MG1 DJI, una nuova era per l'impiego di prodotti.